è frascorso un anno è stato il locale dell'anno venerdì 3 giugno torna il locale più vicino alle stelle sali sul tetto di roma torna le terrazze arte e spettacolo clubbing e nightlife da giugno a settembre quattro mesi da vivere tutto d'un fiato emozionati e divertiti con noi vivi lo spettacolo da protagonista vivi le terrazze